Dopo l'annuncio adesso c'è anche la data. Il 16 agosto a Castione riparte la CAD ordinaria per i cittadini rimasti senza medico di base. L'emergenza idrica ha messo in difficoltà il piccolo borgo di Salmezza nel comune di Nembro. Ad agosto 65 mila litri d'acqua grazie alla protezione civile. Al porto turistico di Lover è serata dedicata al settore giovanile dell'Atalanta presentata la squadra Under 14 vincitrice dello Scudetto. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. In apertura la cronaca un pensionato ha perso la vita in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Zanica. La vittima Pietro Parimbelli, 88 anni di Zanica, stava percorrendo in bicicletta la strada per Padernione quando è stato investito da una Citroen C4 guidata da un uomo di Grassobio. Il pensionato sbalzato dalla bici è finito sull'asfalto e ha perso conoscenza. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. 38 anni fa, lungo la stessa via. Il padre di Pietro Parimbelli era morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. Un 52enne è rimasto ferito piuttosto seriamente dopo una caduta questa notte a Predore. È successo intorno alle 3 in via Igea. L'uomo è stato soccorso da un'equipe dei volontari di Sarnico e trasportato con codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Chiudiamo con la cronaca, proseguiamo con il nostro telegiornale. Buone notizie per i cittadini di Castione della Presolana che sono rimasti senza medico di base. Subito dopo Ferragosto ripartirà la continuità assistenziale di urna nella sua modalità ordinaria ovvero negli ambulatori di Bratto. Sentiamo. A Castione della Presolana la continuità assistenziale di urna per i cittadini rimasti senza medico di base verrà riattivata a partire da martedì 16 agosto. Lo ha annunciato il sindaco Angelo Migliorati. La riattivazione di questo servizio era stata annunciata nei giorni scorsi. Mancava solo la data. La continuità assistenziale di urna avrà sede negli ambulatori di Bratto che hanno già ospitato il servizio tra gennaio e giugno. Il sindaco ha spiegato che nelle prime settimane non verrà attivata tutti i giorni per motivi organizzativi ma nel più breve tempo possibile entrerà a pieno regime. L'avviso con i giorni e gli orari di apertura arriverà dalla TS di Bergamo. Sarà possibile richiedere anche visite a domicilio qualora necessario. L'accesso avverrà per appuntamento che dovrà essere fissato tramite la farmacia e ovviamente sarà riservato ai pazienti dei dottori Baiguini e Bertoni che hanno cessato la loro attività a Castione. I villeggianti per gli appuntamenti con il medico dovranno rivolgersi alla farmacia e usufruiranno della CAD diffusa. Il sindaco sottolinea che per i villeggianti è comunque preferibile utilizzare le ricette elettroniche da richiedere al proprio medico. L'emergenza idrica ha messo in difficoltà il piccolo borgo di Salmezza nel comune di Nembro. Ad agosto, grazie alla disponibilità dei gruppi di protezione civile del territorio, sono stati fatti arrivare quasi 65 mila litri di acqua. Nella località di Montagna abitano otto persone. In questo periodo ci sono anche più di 30 villeggianti. La situazione di crisi idrica per la nostra frazione di Salmezza, che è una località che si trova a circa mille metri di altitudine nelle montagne a ridosso del Monte Podona, è iniziata a marzo con la carenza di precipitazioni che non sono più state sostenute nei mesi successivi. Nei primi mesi di emergenza abbiamo avuto un grandissimo aiuto da parte della Prefettura, che ringrazio, e dei Vigili del Fuoco che hanno permesso il trasporto dell'acqua direttamente nel bacino di Salmezza. È un bacino che normalmente viene alimentato attraverso delle sorgenti che si trovano in loco e che vengono a loro volta alimentate dalle precipitazioni che sono mancate in questi mesi. Durante tutti i mesi fino a luglio abbiamo avuto il grandissimo supporto di Prefettura e dei Vigili del Fuoco che hanno sempre fatto il rifornimento portando l'acqua direttamente dal comune di Selvino, di conseguenza da un idrante indicato da Prefettura e dei Vigili del Fuoco e dal comune di Selvino alla frazione di Salmezza hanno trasportato l'acqua con le autobotti per riempire il bacino. Il percorso da Selvino a Salmezza è piuttosto breve, si tratta di alcuni chilometri. Tutto questo è successo fino alla fine di luglio. Da agosto poi cos'è successo? Da agosto è successo che i Vigili del Fuoco non hanno ritenuto più un'emergenza la situazione di Salmezza e di conseguenza il comune si è organizzato attraverso la protezione civile con i gruppi del comune di Nembro, del comune di Pradalunga, del comune di Albino e del comune di Alzano che si sono riuniti insieme ed hanno accettato di trasportare l'acqua da Pradalunga fino a Salmezza. Tutto questo perché non è più possibile prelevare dall'altopiano di Selvino che si trova a sua volta in una grave carenza idrica tenendo presente anche che la stagione turistica è iniziata e di conseguenza sono aumentati anche gli abitanti del comune di Selvino. Di conseguenza sempre con la protezione civile, con i gruppi di protezione civile abbiamo fatto un primo trasporto, un primo rifornimento di acqua partendo da un idrante che è nel comune di Pradalunga come c'è stato indicato da Uniacque e di conseguenza la protezione civile ha portato con i propri mezzi, sono sette mezzi, l'acqua dal comune di Pradalunga fino alla nostra località di Salmezza. Il primo intervento ha portato circa 19 metri cubi d'acqua che sono serviti a riempire una parte del bacino che ne contiene 45. In un secondo intervento che è stato fatto invece il 9 di agosto sempre con i mezzi della protezione civile che hanno impiegato 16 volontari fra cui la vice sindaco di Nembro Sara Bergamelli e il consigliere Bruno Pulcini si sono attivati per portare altri 25.000 litri di acqua e in un secondo viaggio altri 20.000 litri d'acqua che hanno permesso il completo riempimento del bacino idrico di Salmezza per permettere agli abitanti di avere un periodo di tranquillità con l'acqua. Un doveroso ringraziamento va sicuramente a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa fase di emergenza, in particolare la prefettura e i vigili del fuoco per tutto il lavoro che hanno svolto nei mesi scorsi, mentre in questo ultimo periodo non posso che ringraziare i gruppi di protezione civile di Nembro, Alzano, Albino e Pradalunga che sono stati autorizzati dalla provincia, sono stati coordinati, hanno fatto un ottimo lavoro che ho supervisionato personalmente e in particolare la vice sindaco Sara Bergamelli ha partecipato al carico dell'acqua, al trasporto dell'acqua e a loro va sicuramente il mio ringraziamento. Abbiamo visto una delle tante attività della protezione civile, protezione civile che è un'ottima occasione di volontariato per i giovani e a settembre alla casa dell'orfano di Clusone ci sarà un camp per ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni. Sentiamo. 2, 3, 4 settembre qui presso la sede della protezione civile città di Clusone prende il via un camp dedicato ai ragazzi dai 16 ai 25 anni. Di cosa si tratta? Sì, è un'iniziativa nata prima del Covid e finalmente possiamo metterla in atto. È un'occasione molto importante di crescita personale per mettersi alla prova per tutti i ragazzi che hanno voglia di partecipare e di mettersi in gioco. I comuni che hanno aderito all'iniziativa sono sei, Clusone, Piaglio, Parre, Villa Donia, Rovetta e Onore e puntiamo appunto i ragazzi come prova iniziale per farli poi entrare nelle nostre associazioni. Infatti con la partecipazione del Corpo Volontari Presolana puntiamo a illustrare in linea generale tutte le nostre attività, a provarle con mano per poi in un futuro sperare che qualcuno di questi ragazzi aderisca totalmente alle nostre associazioni. Ci racconti un po' della protezione civile città di Clusone? Quante attività fa durante l'anno? Quali sono le attività del quale vi occupate? Sì, in atto pratico proprio per prendere in esempio questi giorni ci stiamo occupando dell'emergenza siccità quindi di andare in soccorso agli appeggiatori e ai contadini che ne richiedono tramite il comune l'assistenza per portare l'acqua agli animali per quindi continuare il loro lavoro oppure per esempio quando c'è mal tempo quindi in questo caso quando vengono questi forti temporali ci occupiamo di controllare che sia tutto in sicurezza quindi controllo delle strade, se c'è qualche frana, se c'è qualche allagamento e ci occupiamo anche di antincendio. In questi anni di attività e di volontariato presso la protezione civile c'è un evento che ricordi magari con grande soddisfazione a livello personale? L'incontro l'anno scorso con i ragazzi delle scuole elementari di Cerette sono molto divertiti quindi vedere la gioia e la passione di questi bambini è stato molto incoraggiante anche per tutti noi. Cristian Giudici che fa parte del Corpo Volontari Presolana ma a tutti gli effetti collabora con la protezione civile di Clusone e vogliamo spiegare a tutti i nostri telespettatori anche questa unione di forze che c'è in atto. Allora in questo campo collaboreremo con la protezione civile di Clusone per allestire questo campo, infatti tutto il materiale dalle tende alle brandine ai servizi genici lo forniamo noi in quanto l'abbiamo in gestione da Regione Lombardia e dal Comitato Regionale di Ampas. E appunto il primo giorno lo dedicheremo all'allestimento del campo sempre in collaborazione con la protezione civile di Clusone mentre il secondo giorno i nostri istruttori 118 faranno un piccolo corso ai ragazzi dove sarà una piccola parte pratica sul funzionamento del 118 del numero unico europeo di emergenza 112 e per poi passare dagli scenari e delle tecniche un pochino più pratiche. Durante questi tre giorni verrà sempre garantita l'assistenza sanitaria da un nostro equipaggio e da un mezzo sempre presente in posto. Corpo Volontari Presolana che si collabora per questo camp ma collabora con la protezione civile di Clusone anche durante tutti gli altri 365 giorni dell'anno. Esatto sì, essendo vicini spesso e volentieri collaboriamo su emergenze come ad esempio sugli incendi boschivi tramite la comunità montana valseriana oppure ultimamente stiamo lavorando particolarmente tanto assieme per portare acqua agli alpeggiatori e ai contadini che sono rimasti senza vista la crisi idrica. 2, 3, 4 settembre e per tutti i ragazzi che magari invogliati dal nostro servizio vogliono iscriversi, cosa devono fare? Sì, bisogna rivolgersi agli uffici turistici di Ponte Nossa, Parre, Clusone oppure Rovetta e nulla, avere tanta voglia di imparare, tanta voglia di mettersi in gioco e vi aspettiamo. Un bellissimo progetto che esposa anche il comune di Clusone che è all'interno di un altro grandissimo progetto Tutti in pista. Esatto, il progetto Tutti in pista 2021 è stato presentato dal comune di Clusone come Ente Capofila insieme in realtà ad altri comuni limitrofi all'interno del bando La Lombardia dei Giovani 2021, ottenendo quindi il finanziamento. Ad essersi occupato nello specifico di questa azione è stato il comune di Villadogna insieme appunto ai ragazzi di protezione civile e al corpo volontario Presolana. Insieme abbiamo cercato di proporre un'iniziativa nuova, un'esperienza sul territorio che potesse essere un po' più avventurosa per i nostri giovani. La Sagra di San Rocco a Piario è uno degli appuntamenti tradizionali del Ferragosto in Alta Val Seriana. Dopo due anni di stop la festa riparte grazie ai giovani dell'Associazione Sportiva Piario. Ultimi preparativi a San Rocco di Piario per il ritorno della Sagra di San Rocco. Un appuntamento molto atteso dell'estate in Alta Val Seriana. Come siete riusciti a ripartire? Sì, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia finalmente ritorna la 53esima Sagra di San Rocco. Un appuntamento molto atteso dalla gente di Piario e non solo. Quest'anno, primo anno per la S. di Piario che organizza questo grande evento appunto per la comunità di Piario. e prima organizzato dall'oratorio di Piario e dal gruppo sportivo precedentemente. Solito programma, abbiamo voluto mantenere la solita festa che è stata appunto prima della pandemia. Quindi partiamo con il 14 di agosto. A pranzo e a cena c'è cucina aperta con piatti tipici. Alle ore 15 inauguriamo una mostra fotografica che parla di tutta la Sagra e non solo. Alle 20.45 mentre ci sarà il tributo a Vostok, una band locale che ci allieterà la serata. Il giorno 15 invece, giorno di ferragosto, sempre a pranzo e a cena avremo la cucina aperta con piatti tipici. Alle ore 16 la tombolata. Alle ore 18 la Santa Messa. E alle 21 inizierà la musica DJ Blitz che ci farà aspettare la serata pirotecnica con i fuochi molto attesi dalla gente del posto. E poi proseguirà la serata musicale sempre con DJ Blitz. Martedì 16, solennità di San Rocco. Programma religioso ci sarà alle 8.30 la messa la mattina. Alle 10.30 Santa Messa Solenne. E alle 16 la processione e i vespri. Mentre il programma fulcroristico. A mezzogiorno cucina aperta con piatti tipici e alle 17.30 la tombolata. Il 15 chiuderemo la strada che porterà a San Rocco per ragioni di sicurezza. Ma ci sarà il bus navetta che farà su e giù dal paese per portare chiunque volesse venire qua da noi. Quali sono i punti di partenza del bus navetta? Allora per il giorno 15 di agosto saranno parcheggio zona ospedale e il parcheggio del cimitero. Quindi i parcheggi più grossi del paese di Piario. Nel salire anche per la gente di Clusone zona e morti vecchi. Invece per il 16 per la gente di Piario si può attendere il pulmino al di fuori delle proprie abitazioni. Perché farà il giro completo di tutto il paese. Il 16 in concomitanza con la Santa Messa e la processione. Ci sarà anche una navetta che porterà i più anziani a venire ad ascoltare le messe e la processione. Io volevo fare qualche ringraziamento dovuto a tutti i volontari che in questi giorni stanno lavorando e che durante la festa anche ci daranno una mano. Siamo in tanti, il lavoro è tanto a San Rocco, è sempre stato così, ma veramente grazie, grazie, grazie. E un altro grazie anche all'associazione Apiarium, associazione culturale del paese, che ha preso in mano la mostra fotografica e ha curato tutto l'allestimento. Si sono spenti i riflettori da qualche giorno sull'edizione 2022 di Ardesio Divino, ma torniamo a parlarne perché l'evento ha permesso un nuovo passo avanti nel rapporto d'amicizia tra il nostro territorio e Cattolica sulla riviera Romagnola. La diciottesima edizione di Ardesio Divino, che si è appena conclusa, è stata l'occasione per rafforzare il gemellaggio tra Ardesio e Cattolica. Sì, assolutamente, i rapporti di amicizia stanno continuando e anche in questa estate 2022 stiamo portando avanti quelli che sono questi scambi di comunicazione reciproca che ci stanno dando dei risultati anche, devo dire, inaspettati. Ringrazio, come ho avuto modo di fare anche durante l'inaugurazione di sabato mattina, ringrazio la Promo Serio perché ci ha permesso, ha capito e ha intuito la potenzialità di questa amicizia che non è solo prettamente per Ardesio ma che va un po' anche a premiare l'intera Valle Seriana perché un piccolo paese come Ardesio mettersi alla pari con una città importante come Cattolica non è semplice dal punto di vista poi dell'ospitalità perché ovviamente posti letto ad Ardesio non ce ne sono ovviamente come Cattolica e quindi diventa un'opportunità per tutta la Valle Seriana. Però restando focalizzati su Ardesio e Cattolica vorrei ringraziare davvero l'amministrazione comunale di Cattolica che ha sposato la sua presenza ad Ardesio Divino era presente in modo molto marcato perché le tovagliette che potevate trovare sui vassoi della cena erano griffate con immagini e una bella presentazione della cittadina di Cattolica che non è solo mare quindi ci sono tante tante opportunità di vacanza per tutti in questa bellissima cittadina dell'Emilia Romagna. Tovagliette offerte dai chioschisti di Cattolica che sono i bar e i ristoranti sulla spiaggia che hanno sostenuto questa idea dell'amministrazione comunale e hanno fornito le tovagliette per la cena di Ardesio Divino. E poi continuiamo con i rapporti perché era presente anche Massimiliano Stringati a rappresentare il Wine Tour. Il Wine Tour è l'evento con cui noi siamo stati a Cattolica lo scorso maggio a promuovere l'Ardesio Divino e la Valle Seriana. Wine Tour che era presente con Massimiliano Stringati proprio a rappresentare l'istituzionalità dell'evento ma che ci ha dato l'opportunità di conoscere anche delle cantine perché alcune cantine che erano presenti in questa diciottesima edizione di Ardesio Divino arrivavano da questa amicizia nata durante il Wine Tour proprio a Cattolica. E poi voglio ringraziare Alfio Biagini perché è il presidente del consorzio della Piadina Romagnola perché davvero ha fatto uno sforzo incredibile, ha offerto all'organizzazione di Ardesio Divino, ha offerto alla Proloco mille piadine quest'anno per accompagnare i nostri salumi, i salumi di Cadelbotto, i nostri formaggi, i formaggi locali del nostro territorio al posto dello gnocco fritto proprio per questo connubio, questa voglia di amicizia e di unione con Cattolica abbiamo utilizzato la Piadina Romagnola che è esattamente il loro pane quindi è il loro simbolo forse più importante per quanto riguarda l'enogastronomia e quindi è davvero questa amicizia che continua tra queste due località, mare e montagna che si avvicinano e cercheremo nel futuro anche in questo autunno di creare degli appuntamenti e delle sinergie proprio per andare avanti su questa strada che abbiamo intrapreso e che sicuramente per quanto riguarda Ardesio sta dando sicuramente i frutti che avevamo ipotizzato all'inizio di questa avventura e quindi un ringraziamento davvero, un grazie a Cattolica L'Overei non è solo uno dei borghi più belli d'Italia, è un luogo di turismo in questi giorni è anche sede del ritiro dell'Atalanta Under 14 squadra campione d'Italia nella scorsa stagione unica formazione del settore giovanile nero-azzurro ad aver conquistato lo scudetto ieri nella cornice del porto turistico la presentazione dei ragazzi allenati da Roberto Previtali e una tavola rotonda dedicata al settore giovanile dell'Atalanta ospiti Stefano Bonaccorso, responsabile delle attività di base Giancarlo Finardi, coordinatore dell'attività agonistica e Lucia Castelli, psicopedagogista del Vivaio Vediamo L'Overe ha molto da offrire, non solo da un punto di vista sportivo anche da un punto di vista paesaggistico da un punto di vista culturale degli eventi e noi siamo veramente molto lieti di poter ospitare qui a L'Overe la squadra degli Under 14 sappiamo che in questi giorni si stanno allenando veramente con grande impegno sappiamo però che si sono anche divertiti nel cimentarsi in altri sport e quali la canoa, il canottaggio, il nuoto e quindi la cosa ci fa molto piacere ecco abbiamo messo veramente in campo tutte le nostre forze per cercare di farli sentire a casa Mister Roberto Previtale, allenatore dell'Antare 14 questa settimana qui in ritiro a Luvere una novità per quanto riguarda il settore giovanile e questa squadra? Sì, è il primo ritiro che facciamo qua a L'Overe bella esperienza, bel posto ci stiamo trovando veramente bene che dire, speriamo di tornare poi l'anno prossimo I tuoi ragazzi sono campioni d'Italia per quanto riguarda l'Under 13 ci sei trovato questa squadra di veri campioni Sì, ho questo gruppo quindi complimenti sicuramente per il risultato vanno ai miei precedenti il gruppo è un buon gruppo stiamo lavorando bene ci stiamo divertendo ci stiamo conoscendo e il ritiro ci aiuta in questo e via dai cominciamo la stagione è lunga ci saranno tanti tornei campionato e ci stiamo preparando al meglio C'è un obiettivo per la tua squadra per questa stagione? Ma il mio obiettivo è che quest'anno cominciano a giocare a 11 perciò è quello di incominciare a dargli qualche nozione qualche stare inizia cercare di stare in campo bene non dimenticando poi l'aspetto anche proprio individuale del ragazzo credo, speriamo, ecco comunque è già quattro anni che faccio questa categoria qua gli possiamo dare un qualcosa da parte nostra sempre il massimo Le parole che sono immerse questa sera sono passione e divertimento devono essere un po' le parole d'ordine per quello che è poi le fatiche che andranno a frontale stia conciliando sia l'anno scolastico che poi la stagione calcistica si hai detto bene l'abbiamo detto anche in questa serata qua passione e divertimento con un occhio alla scuola perché ricordiamoci che comunque sono ragazzi di 13 anni hanno avanti ancora un percorso però ecco in questo senso Atalanta cerca di essere attenta di conciliare bene sia la parte di campo che la parte fuori dal campo Fanno buon accorso qui a celebrare il settore Giovanni dell'Atalanta in questa Under 14 che l'hanno scorso ha vinto lo Scudetto una squadra di campioni che ha seguito anche da vicino Sì dai un risultato prestigioso che è il frutto di tanti anni di lavoro se pensiamo che in questo gruppo oggi Under 14 ci sono ragazzi che sono da noi da sette anni questo la dice un po' lunga è la nostra storia, è la nostra tradizione ogni anno anche il Presidente sottolinea l'importanza del partire bene con i bambini e con l'attività di base con tanti ragazzi bergamaschi noi non abbiamo solo bergamaschi abbiamo tanti lombardi e questo è un percorso che continueremo perché abbiamo avuto grandi soddisfazioni e quindi in bocca al lupo per la nuova stagione di questi ragazzi che devono continuare sulla strada che hanno intrapreso è stata una bella serata soprattutto per i ragazzi che meritavano magari un po' di palcoscenico dopo questa bella vittoria sono stati veramente bravi l'anno scorso complimenti a Stefano e al gruppo dell'attività di base che hanno portato avanti questi ragazzi adesso magari devono fare un passo in avanti con l'attività agonistica e speriamo anche da questo gruppo che l'Atalanta possa ottenere fra qualche anno qualche giocatore Giancarlo, allenati da mister Previtali che è stato uno dei tuoi ragazzi allenati da Roberto Previtali che è stato un ragazzo nel nostro settore giovanile che ho avuto la fortuna di allenare un bravissimo ragazzo sicuramente sono in buone mani e grazie e approfitto per ringraziare ancora l'amministrazione comunale e la società di calcio di Lovere che ci hanno ospitato è stata una bella per i ragazzi sicuramente una bella esperienza vivere in gruppo partecipare vivere in un ritiro forse la prima volta per cui è una cosa veramente bella grazie ancora sempre lo sport corsa spettacolo ieri sera a Colere dove è andata in scena la Yankee Run gara con formula all'americana vediamo chi ha vinto si è disputata ieri sera a Colere la Yankee Run una gara di corsa ad eliminazione su un anello di 300 metri organizzata dalla Fly Up di Mario Poletti e dalla Prologo di Colere 11 concorrenti che si sono presentati al Via in Piazza Risorgimento e che si sono sfidati tra due ali di folla c'era grande attesa per la sfida tra due giovani atleti bresciani specialisti della pista Giovanni Filippi gran tempo per lui quest'anno sui 1500 ed Enrico Vecchi vice campione italiano della categoria promesse sui 3000 siepi tra i presenti anche Saberra Zinubi atleta junior che quest'anno ha vinto il titolo italiano di cross e Antonino Lollo campione italiano 2021 di maratona dopo otto giri a ritmo blando la gara è entrata nel vivo con l'eliminazione a ogni due giri dell'ultimo concorrente nell'ultima sfida sono rimasti in tre a giocarsi la vittoria oltre ai pronosticati Filippi e Vecchi è rimasto in gara il rovettese Jacopo Brasi già vincitore a Colere nel 2018 nell'emozionante volata finale è stato Giovanni Filippi a vincere precedento di poco Enrico Vecchi da segnalare anche la buona prova della giovane clusonese Pietro Cambianica è stato l'ultimo ad essere eliminato e ha concluso al quarto posto siamo in conclusione quindi i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20 video motori rubrica dedicata ai motori alle 20 e 30 un nuovo appuntamento con il nostro settimanale di informazione Target alle 21 e 50 in viaggio rubrica sul mondo dei viaggi alle 22 e 15 Italia Economia alle 22 e 30 la seconda edizione del telegiornale alle 23 e 15 Pianeta Salute TG alle 23 e 45 le transizioni del futuro programma sull'innovazione tecnologica a mezzanotte e mezza la terza edizione del nostro telegiornale l'almanacco domani è sabato 13 agosto il sole sorge alle 6 e 13 tramonta alle 20 e 38 la luna in fase calante sorge alle 21 e 45 tramonta alle 8 e 57 di domenica la chiesa ricorda Sant'Ippolito è tutto grazie per averci seguito vi ricordo dopo il TG l'appuntamento con le previsioni del tempo buona serata grazie a tutti